Infrastrutture e turismo sono uno strumento indispensabile per la crescita di un territorio. L'area di Taranto ne ha particolarmente bisogno. Ne parliamo con Vincenzo, detto Enzo Di Gregorio, candidato al Consiglio regionale con il Partito Democratico. Certamente i due assi importanti. Innanzitutto il porto per la recettività delle navi da crociera, perché Taranto deve essere presentata nella sua immagine migliore attraverso il mare. E poi la grande battaglia dell'aeroporto di Grottaglie, perché chiaramente l'aeroporto deve, il sottolineo, deve essere aperto ai voli civili. La città se lo aspetta, lo vuole e la politica deve essere più attenta alle esigenze della comunità.